Glielo compriamo? È un bel prezzo Mmmmm Mi stai truffando Facciamo così ragazzi, secondo me Stef qua mi sta truffando E' tornato il vostro costruttore preferito Della vita in città ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Saluto Alessandra, Jacopo e Davide Scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere salutati nel mio video Iscrivetevi al canale coltassiero su questo Attivate la campanella su tutte quante notifiche E superami 3000 mi piace Per un nuovo video di vita in città su Minecraft Di questa bellissima serie demo data Ragazzi mi raccomando eh Superami 3000 mi piace perché so che possiamo superarli Quindi in questo momento lasciate un bel pollicione in su Dai lasciatela Comunque iniziamo subito Oggi c'è da costruire la casa di Marci e di Nat Guardatelo questo qui Come sta proseguendo, come sta andando avanti Ha messo in vendita la cobblestone Questa qui come si chiama? La diorite, l'andesite, il granito Il ferro Ok va bene Comunque il buon Marci mi aveva chiesto una casa E ho pensato che sarebbe carino Costruire più o meno qua in questa zona qui Perché è più o meno centrale Anche Nat mi aveva chiesto di fare comunque una casa più o meno centrale Ragazzi quindi Secondo me oggi L'episodio si svilupperà sul fatto che costruirò queste due case Quella di Nat sarà un po' più piccola rispetto a quella di Marci Quindi a questo punto Visto che Marci già nel suo lotto e Nat non c'è Perché magari è uscito e è andato a rompere qualche legna Quel legno io non posso toccarlo Perché essendo che non solo fa legname Non ho il compito di romperlo Non ho la possibilità di romperlo Ma posso soltanto rompere il legno con cui costruisco Allora mi faccio il cambio in questo modo Ho cambiato un pezzo da 100 in due da 50 Così metto via questo Poi in questo modo mi compro Mi faccio il cambio qua con questo E un 50 me lo tengo via da parte Così posso comprarmi comunque un po' di carote per ora Anche se non è proprio il massimo 16 carote credo che vadano più che bene Quindi la caseina dovrà essere più o meno qua al centro Allora mettiamo via le cose un po' inutili in questo I soldi no ci teniamo Prima che arriva qualche ladro Che io comunque il mio server di polli più o meno lo conosco Quindi teniamoci il portafoglio più che stretto possibile Lo mettiamo nella seconda mano No a parte queste cose Comunque il nostro materiale è questo qui per la casa di Nat Quindi mettiamo per esempio il materiale di Marci qua nell'angolino Signore DeMarc? Eh mi dica Eh che cavolo scusi Io la stavo aspettando lì davanti Perché mi ha detto che doveva fare il lavoro prima me E adesso è qui da Nat Ho messo l'appoggio da Nat Vabbè devo fare il primo lavoro da te quindi Esatto Va bene Se Nat è d'accordo sì Vabbè allora ascolta una cosa Spiegami sta casa qui come la vuoi Allora io voglio che tu mi faccia la casa qua in mezzo Dove ci sono appunto le ceste Ok Ti lascio anche un pochino di cobblestone Ti lascio un po' di materiale Ah perché vuoi anche che ti usi la cobblestone? Eh ma poi quello che ti avanza puoi anche tenere Ok Oh grazie Oh ma che regali Come Eh un bel regalo Va bene Mi faccio un bel lavoro Va bene Allora io vado Vado a finire Vi sentiamo dopo Va bene dopo Ciao Quindi la casa vuole più o meno centrale Abbiamo un bel po' di materiali Però a me servirebbe una chest Che a questo punto Dovrei farmi di appoggio Da qualche parte No vabbè allora facciamo così Iniziamo a craftarci il primo oggetto Perché tanto nell'inventare abbiamo soltanto robe di possesso di marci Quindi allora una casa mi serve una crafting table Perché poi l'abbelliamo ovviamente Crafting table ci servirà una porta ragazzi Una porta da fare Poi un po' di trapdoor per abbellire Io ne faccio 10 10 trapdoor più o meno credo che bastino Vediamo qua 5 10 10 trapdoor Poi mi servono degli stick per fare delle fence Quindi facciamoci le fence che si craftano così No questi qua sono i gate Ogni volta mi sbaglio ragazzi Quindi qua facciamo così in questo modo Ok E dividiamo E ci facciamo altre fence 48 fence abbiamo fatto Urca Abbiamo sprecato un po' di materiale Devo stare attento Perché essendo il costruttore Poi se spreco materiale Tutto il resto Lo devo pagare io Quindi qua è un errore che non devo fare Stiamo molto attenti a questa cosa Allora Dobbiamo fare anche una casa Per marci Facciamo così Qua noi ci mettiamo la porta Poi 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 Facciamo così il legno Il legno Con il legno facciamo Una casa basic Perché essendo che non c'è Il vetro O quant'altro Non abbiamo tutta quanta Questa grandissima inventiva Nello sviluppare una bella casa Quindi Facciamola più che tranquilla Inizialmente Una casa tranquilla Se riusciamo a farla anche su due piani Ci proviamo ragazzi Quindi proviamo a salire Questa qua L'abbiamo fatta a pari Non va bene Allargiamoci di uno E per ora ci si è strutturale In questo modo Una casa su due piani Purtroppo ragazzi Ve l'ho detto Avendo soltanto il legno Non è che abbiamo Tutta questa grandissima inventiva Quindi guardate qua Cosa ho fatto Ho fatto un secondo piano Dove qua può fare la zona notte Invece qua sotto Può fare una zona lavoro Dove smistare le chest Mettere le crafting table Le fornaci E meno male che abbiamo comunque Questa chest d'appoggio Perché era la sua E possiamo appunto Organizzarci così Quindi Per ora questi qua Sono i suoi oggetti Se ci fosse Nat Che potrebbe vendere il suo legno Potrei ragazzi Utilizzare anche i log di legno Perché Gli ricomprerei più che volentieri Ma purtroppo Ora non è nel server Quindi Per ora Dovrò diramarci Che dovrò un attimo Arrangiarmi con quello che ho Perché qua avrei utilizzato Dei log di legno Molto a molto carini Per abbellire la casa Dovremmo Fare anche il tetto Quindi saliamo Anche qua di tre E poi saliamo di uno In questo modo Quindi qua Facciamo così Purtroppo ragazzi Credo che nella mia economia Ho sbagliato a fare Un po' troppe fence Quindi Dovrò pagare di tasca mia Altro legno E questo è un errore Che non dovevo fare Ma devo imparare Comunque all'inizio ragazzi Quindi qua Continuiamo così In questo modo Anche se Ci sono andato a guadagnare 40 euro Sulla casa tra Natta e Marci Quindi più tanto in perita Non ci vado Secondo me Poi dopo scopriremo La mucca di mi sta osservando Da un po' troppi minuti ragazzi Ma credo di aver quasi terminato La struttura della casa di Marci Guardate come l'ho fatta Ho cercato di Sistemare con tutte le fence Che ho Più o meno Una specie di palafitta Ragazzi Che secondo me è molto carina Perché guardate che effetto dà Sopra Piuttosto che farla tutta quanta chiusa Ho pensato Ma perché farla chiusa Quando posso fare un terrazzino Molto carino Dove poter magari mettere il letto Magari fare la zona smistamento Qua in alto Delle varie ceste E poi fare invece La zona da letto sotto Ragazzi Secondo me Questa qui è una cosa Molto carina Il problema è che appunto Non avendo altri log di legno Non posso fare più di tanto Però a me piace Sapete È una casa molto semplice Molto carina E molto funzionale Secondo me Il problema è che con i materiali Che ho Non posso fare più di tanto Altro Quindi Con la cobblestone Quante ne abbiamo Ne abbiamo 21 Potrei chiudere qua così Con la cobblestone Vediamo come sta Più o meno Purtroppo non avendo del vetro Non posso fare più di tanto altro Allora facciamo così Visto che ho fatto questo errore Pagherò della cobblestone a marci Quindi quanto costa la cobblestone 40 pezzi costano 10 Compriamo altri 40 pezzi dai Quindi prendiamoci un 10 In questo modo E andiamo a comprarci Questa dannatissima cobblestone Posso Ah no devo andare con i soldi in mano Vediamo Ok Altri 40 pezzi di cobblestone Li abbiamo presi Non è molto carina Da vedere la cobblestone all'esterno Ragazzi Però purtroppo per ora Ovviamo a questo problema Che non abbiamo del vetro Poi arriverà anche il vetro Magari se il minatore Andrà a raccoerlo Potrò accompagnerlo E finirli la casa Quindi qua Continuiamo così E poi continuiamo In questo modo Purtroppo ragazzi Ve l'ho detto Quei materiali che abbiamo Questo è il massimo Che riuscivo a fare Ed esteticamente Alla fine Non è neanche così tanto brutta Beh non è male ragazzi È molto carina come casa È Ha un sacco di forme Molto belle Guardate con la porta chiusa Come viene Vediamo Vediamo da lontano Com'è Secondo me è bellina Guardate quanto è bella ragazzi Ha un sacco di forme Molto carine A me piace un sacco Per ora lasciamo Tutti quanti Questi oggetti Che abbiamo fatti in più Al buon marci Qua dentro In questo slot Dell'inventario Della chest Mi piace Secondo me potrei Lasciare una così fatta Voi cosa ne pensate Scrivetemi un commento Da 1 a 10 Su quanto è bella La casa di marci Intanto Eccoli qua I nostri amici Stavefere Guardateli Che stanno Permesso Loro non mi sentiranno Però io voglio il mio letto Vediamo quanto lo vendono Ragazzi Ciao Steph Ciao Fere Scrivamo in chat Ciao Allora Vediamo A quanto A 10 A 10 Cosa È tantissimo 10 Oh è tanto Guardate qua Non lo fregate Il costruttore Eh vabbè 10 Cosa facciamo Glielo compriamo È un bel prezzo Mi stai truffando Facciamo così ragazzi Secondo me Steffo qua mi sta truffando È Quindi Mi sta truffando Fere mi sta dicendo Di no Shiftando Ci devo pensare Ma glielo compriamo Un letto a 10 A Steffo Guardate che se ne va Non mi rispondi Mi sta facendo pensare Che secondo me Mi sta truffando Siamo poveri Va bene Ve lo comprerò Allora Facciamo così Visto che per ora Sono quello Un po' più ricco Del villaggio Compriamoli questo letto A 10 Va vediamo eh Però scriviamo in chat State attenti Che se Mi state truffando Lo verrò A sapere E poi pagherete 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 di più La casa Ok Io lo scrivo così Ragazzi Giusto per avvisarli Qua 10 Grazie per il letto Ecco Va bene Vediamo cosa Fere felicissima Steffo Vediamo cosa Sta già riscuotendo I suoi soldi Vuol dire che hanno Veramente molto bisogno Di quei soldi Vediamo Grazie Prego Fere Vabbè Le ben resi Felici Però Steffo Non ha detto mai nulla Sta solo Shiftando Vabbè Li lasciamo qua Nati invece ragazzi Mi aveva chiesto Una casa modesta Infatti Lui mi ha soltanto Fatto prendere Tre stack Di legna Io direi Prima di fare Lo stesso errore Che ho fatto Amarci Facciamo prima la struttura Lui la vuole un po' più piccolina Quindi secondo me Uno Due Tre Quattro Cinque Blocchi Di lunghezza Va più che bene Perché la strutturiamo Più o meno su due piani Ma un po' più piccole Rispetto a quella di Marci Magari con delle scale interne Quindi facciamo così Allunghiamola qua Di tre Quattro Cinque Facciamo anche qua Altre cinque Di lunghezza Quindi più o meno Qua è giusto Qua ci andrà la porta Poi facciamo così Vediamo se ci stiamo Mi serve una crafting table Questa qui l'ho lasciata Nella cesta di Marci Ma era mia Sto strutturando la casa di Nat Ragazzi E' molto carina anche questa E' molto particolare E gli altri Sono andati a vedere anche la casa Che ho fatto a Marci Ed è anche quella Molto bella ragazzi Ho fatto una bella casetta Ero un po' preoccupato Per gli oggetti Che stavo utilizzando Eccolo là Non dice niente Non dice niente Marci della casa E non dici Nulla Della casa Che ti ho fatto Non ha detto nulla Ragazzi Sono molto arrabbiato In questo momento Con Marci Ma guardate voi Mi manca una festa Intanto Comunque ora vi faccio Della struttura da fuori Guardate che bella Che è la casa di Nat E sopra Farà un tettuccio A mo' di palafitta Con gli slab Secondo me è molto bella Anche la casa di Nat Soltanto fatta in legno Ha i suoi particolari Ed è molto bella Guardate quanta legna Mi è rimasta Soltanto quattro pezzi Ma credo di aver finito Ragazzi Allora Non sprechiamo però Questi oggetti Adesso vi faccio vedere Cosa ha combinato Verso la fine Per la casa di Nat Per abbellirla un po' di più Guardate qua ragazzi E' molto carina ora Qui dobbiamo concludere Con questi pezzi Mi rimane Un solo blocchettino Di legno Lasciamo qua aperto Ma perché dà più idea Di finestrone E secondo me è carina Come cosa Qua purtroppo ci sono I leni messi così in vista E non è proprio Così tanto carino Però purtroppo Non avendo altri blocchi Tipo coble Sono quantanto Comprati da Nat Perché Nat Mi ha detto Prendi soltanto la legna E io ho preso Soltanto la legna Mi è venuta questa ragazzi Una mini palafitta E' molto carina Perché comunque C'è il piano sotto Dove puoi mettere il letto Le sue cose E poi ovviamente Quando uscirà il vetro Sarà mio compito Ragazzi Sistemare qua Quindi poi Io lo farò comprare E io sistemerò E qua c'è la zona Dove puoi mettere il letto Le fornaci O quant'altro Un po' di video Lui Ragazzi Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Vi lasciate un bel Mi piace Un bel commento Ad iscrivervi al canale Se ancora avete fatto Contazione Lo so qua sotto Mi raccomando E' molto importante Scegliere uno Di due video Qua davanti Prima E sul mio canale E noi ci vediamo Un prossimo Da Marche È tutto Ciao ciao